ciao dario ehi ciao salvo che cos'è quella faccia che succede ascolta ti va se ci vediamo in officina voglio farti vedere cosa scoperto su un alfa romeo tonale per un problema sulla retrocamera che quando la innestiamo diventa tutto il monitor blu ok dai arrivo subito così lo vediamo dai ok ci vediamo tra poco grazie ciao salvatore ciao buongiorno a tutti sono salvatore dall'officina de gregorio oggi andiamo ad osservare questo caso di alfa romeo tonale con problematica di funzione della retrocamera nel senso che retrocamera funzionante ma con display totalmente blu quindi che non mostra l'immagine siamo partiti dalla parte posteriore ad osservare tutto l'impianto elettrico quindi dalla retrocamera stessa in sé per sé a tutto il cablaggio vedete la macchina tutta quanta smontata per controllare le continuità dei fili siamo arrivati dalla retrocamera questo passaggio qui che è praticamente il collegamento con i vari connettori della retrocamera che entrano all'interno dell'abitacolo scendono e vanno sulla parte laterale destra della vettura fino ad arrivare all'anteriore venite a vedere siamo arrivati da quest'altro lato dove abbiamo fatto che continuare a cercare di capire se ci fosse un cortocircuito o un interruzione di cablaggio abbiamo una semana da controllare tutto l'impianto elettrico con i vari connettori in questo caso questo qui è quello lì che parte dal posteriore arriva all'anteriore porta quindi trasmette i dati per l'immagine al monitor centrale il connettore il cablaggio continua fino a salire fa questo passaggio qui e scende praticamente sotto i nostri piedi al lato guida andiamo a vedere la nostra problematica in effetti era questa qui io vado ad accendere il quadro vado ad inserire la retrocamera e il display compare totalmente blu ok le problematiche potevano potevano essere due o un interruzione di cablaggio o un cortocircuito che può essere al cablaggio stesso oppure alla centralina che gestisce la retrocamera in questo caso siamo andati ad individuare il problema e abbiamo riscontrato un corto alla centralina stessa ne abbiamo già una nuova da poter provare così che vediamo la differenza ovviamente un ricambio originale alfa romeo andiamo a vedere cosa succede sostituendo questa centralina allora adesso andiamo a fare una prova per vedere il risultato collegandola in modo volante quindi non fissandola al telaio del cruscotto e vediamo un attimino la differenza scusate la posizione un po scomoda per questioni ingegneristiche le posizioni non sono tanto favorevoli allora adesso andiamo a fare un collegamento semplice di cablaggi per andare a verificare l'effettivo funzionamento e quindi il ripristino nel casistico e quindi della problematica ok l'abbiamo poggiata vediamo la nuova messa in modo volante se così si può dire è la vecchia che abbiamo lasciato ancora montata che dovremmo poi rimuovere nel caso la ripristino andasse a buon fine andiamo a vedere cosa succede proviamo adesso accendiamo il quadro semplice dobbiamo ancora configurarla però andiamo a fare la prova di innesso della retromarcia e la retrocamera riprende a funzionare direi che la problematica è risolta siamo stati tra virgolette messi alla prova da questa casistica però la risoluzione è avvenuta a buon fine e quindi possiamo consegnare alla macchina con grande soddisfazione grazie vi saluto un abbraccio se anche tu ti ritrovi con il monitor della tua macchina blu quando metti la retromarcia non preoccuparti chiama subito il nostro numero fisso per fissare un appuntamento con i nostri esperti ci troviamo qui in via centallo 11 a torino valuteremo senza impegno il danno e lo ripristineremo in un baleno affidati a noi di the gregorio group per una soluzione rapida ed efficace alla prossima ciao